Felice Catapano, Presidente Luxmaster S.P.A. Come sempre dal convegno di Simbola emergono spunti interessanti per la valorizzazione dei territori. Come società noi siamo impegnati in progetti di parteneriato pubblico privato, siamo specializzati in operazioni di project financing e operazioni che portano alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione di immobili prevalentemente appartenenti al settore pubblico. In tal senso abbiamo operato per efficientare le case popolari e adesso siamo impegnati in un progetto di valorizzazione degli asset immobiliari delle aree interne. Crediamo che ci sia bisogno di un approccio nuovo, di un nuovo rapporto tra il pubblico ed il privato. I privati possono fare tanto, c'è bisogno di una collaborazione sana con il mondo delle istituzioni, c'è bisogno di sburocratizzare ed accelerare i processi affinché tutti insieme si possa puntare su una rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare. L'Italia ha un patrimonio immobiliare che va salvaguardato e va valorizzato.